allora voglio farvi vedere come realizzare dei motivi ai ferri che abbiano delle righe diagonali fare questo proprio tipo treccina insomma in realtà sono semplicemente delle righe diagonali sia con la traforatura che senza vengono fatte nello stesso modo l'unica differenza poi sarà come lavoreremo il gettato e io lo faccio uno ogni tre cioè ci metto tre dritti e poi una treccina diciamo si possono fare ovviamente più larghi o più stretti a seconda dei gusti questo non ci sono delle regole ben precise io vi faccio vedere questo che è ogni tre allora per farla questa distanza quindi ogni tre dovremo fare caricare un numero di maglie multiplo di 5 perché saranno tre dritti un gettato e due maglie chiuse insieme quindi lavoreremo su cinque maglie quindi deve essere un multiplo di cinque più due maglie di vivagno una in cima e una in fondo quindi deve essere un multiplo di 5 più due io qui adesso per esempio ho caricato 22 maglie perché farò la mia solita piastrella per la mia coperta e si lavora sempre in modo sfalzata è molto semplice questo punto e si può fare vedete sia con la traforatura che ovviamente traforato viene un motivo molto bello però va fatto con dei ferri più piccoli ferri così grandi traforato vengono dei buchi molto grandi e non è bellissimo allora io si lavora così il primo giro ovviamente va fatto io ho fatto ho avviato le maglie poi ho fatto un giro a dritto e un giro a rovescio e risuono nuovamente sul dritto quindi ho lasciato almeno due giri uno un dritto e un rovescio in modo di essere sul dritto del lavoro nuovamente e si lavora così allora la prima maglia è di vivagno quindi si lavora a dritto normale poi si lavora sempre così quindi cambierà quante maglie facciamo all'inizio la prima volta ne facciamo direttamente tre quindi una due tre dritti e poi facciamo due maglie insieme vedete quando poi saremo nei giri successivi la seconda deve essere quella che esce proprio fuori da questa traforatura da questa treccina qui diciamo dalla diagonale per non sbagliare quando facciamo due maglie insieme la seconda vedete sono le due diciamo vedete la seconda è quella che esce proprio dal centro di queste maglie quindi due maglie insieme a dritto e un gettato semplicemente e continuiamo così per tutto il ferro quindi 123 dritti poi facciamo due maglie insieme a dritto prendiamo le due maglie insieme e facciamo un dritto e un gettato quindi passiamo da davanti vedete prendiamo il file lo passiamo sopra e ritorniamo dietro quindi ancora 123 dritti normali quindi due maglie insieme a dritto presse proprio come un normale dritte lavorate a dritto e un gettato vedete il file dietro noi lo passiamo davanti passando di sotto a sopra 3 dritti 123 dritti e ancora due maglie insieme due maglie insieme un gettato e l'ultimo che è un dritto ecco qua quindi questo è come abbiamo lavorato tutto il ferro il primo giro quindi il primo giro inizierà con un dritto poi le tre ma i tre dritti e poi inizieremo il nostro punto quindi tre dritti un 2 maglie insieme un gettato e così via e finiremo con due maglie insieme un gettato e un dritto il rovescio adesso a seconda quindi di quello che noi vorremmo ottenere cioè se vorremmo la traforatura o no sarà diverso come lavoreremo il rovescio si lavora tutto a rovescio quindi la prima maglia era un normale dritto sul dritto quindi un normale rovescio e questo è il gettato il gettato vedete si riconosce perché non ha il nodino vedete questi sono tutti normali maglie e questo è il gettato perché non ha davanti questo nodino qua vedete qui come l'avevamo fatto subito dopo dovete qui questa maglia esce da sotto non passa davanti come per le altre vedete le altre se le tirate hanno questo nodino mentre il gettato no quindi il gettato se noi lo lavoriamo normalmente al rovescio quindi come una normale maglia quindi entriamo così e lo lavoriamo al rovescio avremo vedete il buco in questo modo otterremo la normale traforatura quindi avremo un punto traforato se invece noi il punto lo vogliamo chiudere dovremmo prendere questa maglia a rovescio ritorto e come facciamo allora se entri questo è il normale rovescio non entriamo così se vogliamo farlo ritorto dobbiamo prenderla vedete la maglia al contrario cioè questa è la maglia io allargo un po e dentro vedete nello stessa direzione nella stessa direzione proprio del ferro così come se fosse vedete un la carichiamo proprio così vedete e dobbiamo però essere davanti perché va lavorata normalmente poi a rovescio quindi io vi ho fatto vedere come prenderla poi dopo me la faccio rivedere senza girare del tutto il lavoro e quindi entriamo qui dentro e poi lavoriamo normalmente a rovescio questa maglia ecco qua quindi poi questo è un rovescio quindi la lavoriamo a rovescio ancora un rovescio ancora un rovescio e ancora un rovescio devono essere quattro tra un gettato e l'altro quindi e qui ho nuovamente il mio gettato quindi se lo lavora normalmente a rovescio otterrò alla traforatura altrimenti vedete allora entriamo da dietro prendiamo il filo e facciamo un normale rovescio ancora una due tre e quattro e ancora vedete entriamo attenzione a non prenderle tutte e due le maglie ma solo il filo che è dietro e lo lavoriamo a rovescio normalmente ancora una due tre e quattro e poi lavoriamo a rovescio ritorto anche questo gettato sempre se non vogliamo che sia traforato altrimenti a rovescio normale 1 2 3 e 4 e la mia maglia di vivagno con la quale ero partita ecco qua quindi questo è il risultato vedete questa maglia viene intrecciata in pratica questa maglia qui e chiudendo in questo modo la traforatura se invece l'avessimo presa a rovescio normale questo è il risultato che avremmo ottenuto quindi il buco in questo modo qua ok i giri successivi dovranno essere sempre sfalzati di una quindi adesso io ne farò uno e farò la mia maglia di vivagno e poi invece che tre ne farò solo due quindi una e due soltanto due in modo che vedete queste due le chiudo insieme quella che viene dalla mia treccia e quella precedente le chiudo insieme a dritto e poi faccio il mio gettato e adesso ripeterò invece il normale schema quindi una due tre e due insieme vedete non potete sbagliare perché dovete seguire sempre questa treccia due insieme e un gettato quindi una due e 3 2 insieme due insieme e un gettato 1 2 e 3 ancora due vedete queste dove iniziato l'altra nuova diagonale due insieme due insieme un gettato e poi qui ho ancora una perché ho iniziato con due quindi la terza è qui perché si deve ripetere il motivo di 5 e mia la mia maglia di vivagno ecco qua fatto un altro giro adesso il rovescio farò uguale quindi farò sempre tutto il rovescio e anche qui appunto decideremo come lavorarlo per vedere se vogliamo appunto fare il buco o meno quindi tutto questo giro i giri rovescio vanno sempre lavorati al rovescio ecco qua fatto anche il rovescio vedete sono sempre da adesso sono sul dritto nuovamente quindi ancora farò la mia maglia di vivagno e a questo punto vedete ne farò solo una e poi chiuderò insieme queste due quindi vedete basta seguire il lavoro la maglia do il giro dopo ancora io non farò più farò sempre una e poi le chiuderò insieme la seconda e la terza quindi scalerò sempre di una fino ad arrivare all'ultimo giro dello schema nel quale io chiuderò direttamente insieme le prime due vedete la treccia scompare nel bordo quindi ogni giro sempre prima fino all'ultimo giro che io inizierò direttamente il mio giro vedete questo è il mio bordo quando io arriverò qua cioè all'ultimo giro dello schema prima di ripartire con un giro nuovo io chiuderò direttamente insieme a dritto queste due mentre dietro no dietro non inizierò mai a dal bordo quindi il mio ultimo giro che saranno le due maglie insieme completamente due maglie insieme vedete quest'altro giro qui sarà più lungo quindi di qua io ne farò quattro farò tutte quattro le mie ma farò due maglie insieme e un gettato e poi farò di qua invece farò i miei tre dritti quattro dritti e il dritto di vivagno quindi di qua non inizierò dal dal bordo il nuovo punto con un gettato perché verrebbe non verrebbe bene il lavoro quindi voi semplicemente è semplice da fare questo punto perché semplicemente dovete chiudere insieme quella prima della della maglia che esce dalla treccia con questa sempre chiusa insieme a dritto e un gettato prima e poi a seconda di come lavorerete appunto il gettato potrete ottenere un punto traforato o meno e questo vedete è questo bellissimo motivo a diagonale molto bello che per esempio in un cappello può dare questo effetto a spirale e che può essere fatto anche più lontano invece che tre dritti potete farne quattro cinque sei dieci anche potete farne quanto vuole questo è proprio come lavorare questa treccia quindi a seconda noi possiamo fare tutti i dritti che vogliamo tra le due trecce ricordandoci sempre che per far venire questa treccia qui in diagonale ora io la chiamo treccia ma non è una treccia è semplicemente una maglia in diagonale vedete la maglia che esce dalla diagonale questa e quella prima queste due maglie io le devo sempre chiudere insieme e un gettato dopo e poi lavorare il gettato lavorare sempre a rovescio e rovescio e lavorare il gettato o normalmente a rovescio per ottenere il motivo ecco qua anche con questa io adesso la chiudo e faccio la mia piastrella per la mia coperta per il mio progetto alla coperta del quale vi lascio il link alla fine di questo video così potete esercitarvi a fare questo punto vedere come viene e non buttare il lavoro ma conservarlo per poi ricavarne una bellissima coperta grazie a tutti